Ciao bambini! Oggi guardiamo un libro sui dinosauri. Voi li conoscete bene i dinosauri? Io ancora non tutti. Qualcuno lo conosco per nome, altri ancora me li devo studiare bene. Vediamo qui cosa succede. C'è una mamma dinosauro che va a salutare i suoi piccoli appena nati. Sono usciti dalle uova, avete visto? Uno, due, tre. E qui c'è un uovo che ancora deve rompersi. Mamma mia! O dei dinosauri col collo lungo che mangiano le foglie. E mentre un vulcano erutta con fumo e lava, degli epterodattili volano nel cielo. Ciao! Ma quanti sono? Uno, due, tre, quattro e cinque. Cinque epterodattili. Fa molto caldo qui, vedete quanto sole. Oh! Aiuto! C'è un T-Rex che sta inseguendo due dinosauri. E vediamo con la coda. Aiuto! Sbam! Sbam! Scappiamo! E il T-Rex che si avvicina con i suoi artigli. Oh! Un'altra mamma che saluta i suoi piccolini. Uno, due... E vediamo qui chi c'è. Oh! Cucù! Tre piccolini usciti dalle uova. Una zanzara che vola nella foresta. E qui altri genitori che salutano i loro cuccioli. Che fanno cucù tra i cespugli. Vediamo poi chi c'è. Un'altra mamma dinosauro con il suo cucciolo E un T-Rex che invece si gusta Un'altra zanzara Che bontà E qui nell'acqua Un dinosauro pesce con i suoi tre cuccioletti Ecco qui nel mondo dei dinosauri Se anche a voi sono piaciuti mettete dei like Ciao, a presto!